Le cause degli incendi boschivi in estate rimangono oscure, Siracusa esclusa dai ristori. Gli incendi dello scorso luglio nel decreto di ristori incendi sono stati individuati solo 4 province beneficiari, Catania, Messina, Palermo e Trapani, esclusa Siracusa riguardante la pubblicazione del decreto che stabilisce le modalità di accesso ai ristori previsti dall'articolo 36 della legge regionale 3 del 2024. Siracusa inspiegabilmente risulta esclusa nonostante gli effetti rovinosi che gli incendi hanno causato a privati e imprese. Ho tempestivamente chiesto con un'interpellanza rivolta al Presidente Schifani e all'assessore Falcone di inserire Siracusa tra le province beneficiari. Basti ricordare i danni subiti a Siracusa Città, zona Targi e Scala Greca, Augusta, zona Megareblega, nei pezzi del cementificio Buzzi, Avola, Carlentini, Lentini, Marzamemi, Melilli, Città Giardino, Villasmundo, Parco Aquatico, Contratta Spalla e Portopallo di Capopassaro. L'area di Melilli e le sue frazioni sono risultate tra le più colpite della Sicilia orientale. La vicinanza delle fiamme al petrochimico di Siracusa, dettaglia l'onorevole carta, ha costretto l'amministrazione comunale a disporre l'evacuazione di oltre mille persone. Ingenti danni alla vegetazione sono registrati nella riserva naturale di Pantali che nella zona tra Sortine e Ferla.